Sono in compagnia di Stefano Travaglia, complimenti Stefano perché ha battuto in semifinale lo slovacco Norbert Gombos con questo risultato 6-3-6-4. In un'ora e un quarto di gioco, di nuovo complimenti, è stata una partita comunque molto intensa. Sì, ho iniziato un po' sotto tono con un break subito di apertura contro, condizioni un po' diverse ai giorni passati perché comunque la sera con un po' più di umidità è molto più lento il campo, quindi mi sono dovuto adattare ma poi ho trovato il mio gioco per contrastarlo, sono stato sempre sopra, ho preso sempre in mano lo scambio e ovviamente dopo il primo set mi sono seduto in fiducia e sono andato anche subito sopra il secondo quindi diciamo che ho giocato complessivamente un buon tennis. In questa semifinale è una delle tue armi migliori, credo, il servizio? Sì, il servizio che mi ha abbandonato un po' nel metà secondo set ma che ho ritrovato a fine partita per chiudere il match e arrivare in finale, quindi diciamo che va bene ma devo essere più continuo per avere percentuali sempre più alte. Anche perché tu eri il reduce, se vogliamo, da fatiche supplementari rispetto almeno al tuo avversario che ha avuto anche qualche ora in più di riposo perché aveva giocato la mattina precedente in pratica. Sì, io ieri con la pioggia il match di Gaio... Contro Gaio, 3-7 molto intensi. Sì, sì, due match point annullati al terzo e ho interrotto il match due volte per pioggia quindi ho finito alle 9 e tre quarti e tra una cosa e un'altra mezzanotte. Senti Stefano, tu affronterai domani in finale questo tedesco Oscar Ott, lo conosci? Cosa c'è da dire di questo giocatore? Un giocatore a mio parere simile a quello di oggi che è un giocatore di attacco che spinge cerca subito di prendere in mano il gioco e di venire avanti e niente, io devo cercare di giocare come oggi devo trovare subito dall'inizio il mio tennis e prendere in mano lo scambio, poi il resto verrà da solo. A proposito di prendere in mano, il pubblico è stato in qualche modo sicuramente dalla tua parte i cuori battevano tutti per te, come è giusto che... Sì, ho giocato le prime tre partite contro tre italiani Questo era il primo avversario straniero se vogliamo Sì, ho sentito tutto il pubblico dalla mia parte, c'erano molti miei familiari, quindi sono anche contento E tu siete qui vicino di Ascoli? Sì, sono di Ascoli, marchigiano però ecco molto vicino Spesso viene anche in Abruzzo mi hanno detto, è vero? Sì, allenarmi spesso a Tortoreto Allora, grazie, grazie e complimenti ancora Stefano Travaglia che domani in finale per questa terza edizione dell'Internazionale di Abruzzo affronterà il tedesco Oscar Ott Grazie ancora Grazie a voi Grazie a voi